E' partita da Vallo della Lucania con l'anteprima del conferimento del premio incontri 2021 la quarta edizione del Festival della Teologia nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A premiare Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero. Come è stato evidenziato nel corso della serata, l'esperienza di Nisida offre ai ragazzi l'opportunità di un percorso che li aiuti a cambiare vita, ripartire dai propri sbagli per scoprire la bellezza di una vita da vivere in ben altro modo, fatta di lavoro, impegno, responsabilità, rispetto per sé e per gli altri. La serata è stata conclusa con l'interpretazione da parte di Franco Formisano della poesia di Edoardo De Filippo, depretore Vincenzo. L'iniziativa, promossa in collaborazione con l'Azione Cattolica e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, affronterà quest'anno il tema della giustizia e a partire dal 3 al 5 agosto farà tappa a Caggiano, Teggiano e Agropoli. Ospiti di questa edizione Don Gaetano De Simone, Don Tonino Palmese, Monsignor Pasquale Cascio, Consuelo Ascolese, Katia Cardillo, Maria Felicità Rocco, Cristian Vece, Maria Chiara Avoria, Carmen Tancredi e Dino Zero. A partire dal 2 agosto tutte le serate saranno trasmesse da Cilento Channel.